Cominciava ad invidiare la protagonista a poter essere salvata da un simile eroe. Ed eccolo, bello come un semidio sdegnato di intervenire in difesa della debole fanciulla. In sala il pianoforte accentuava le sue note, gli uomini serravano le mascelle, le donne a pugni stretti e con il respiro sospeso partecipavano alla drammaticità del momento. E quanto provvidenziale per tutti era il suo intervento. Grazie a tutti.